È una Fiorentina inarrestabile, è una Fiorentina che ragazzi al di là della rivalità e di quello che è successo nel canale in passato tra me e Fiorentini sono settimane che parlo bene di questa Fiorentina perché era una Fiorentina che come ho detto appunto in tanti altri miei video della classifica in generale doveva solo trovare la quadra, la quadra. Quando l'ha trovata ragazzi è inarrestabile, non a vittoria consecutiva. Una Fiorentina che fa 24 tiri in totale, di cui 11 importa. Capite? Io quando ho una squadra mi dicono bel gioco, sorpresa, merita... Ecco, questa è una squadra che merita e gioca bene, ti fa divertire, un po' come la Lazio. Poi per carità anche la Juve va molto bene, però non ti fa divertire, è un mio parere personale. Per carità come tutto quello che si può obiettare, ognuno qui può dire la sua. Però tutta sta esaltazione di Tiago Motta, del Bologna, andate a vedere la Fiorentina, poi me ne parlate. Perché obiettivamente la Fiorentina gioca bene, diverte. E ripeto, lo sto dicendo da rivale, da persona che lo sapete benissimo il rapporto che c'è tra Atalantini e Fiorentini. Poi da parte mia, io in questo canale sono sempre stato sportivo, onesto, sincero. Cerco sempre di esserlo con tutti e tranquillo e amico di tutti, perché è bello dello sport, è questo. Io spero che lo capiscono anche i viola. Prima o poi, oggi ci si è preso in giro con un ragazzo che mi segue dall'inizio. Non so neanche se guarderà il video. Ci sono sempre stati così, io e lui, non è quello il problema. No, noi abbiamo vinto, voi non avete mai vinto niente, bla bla bla. E ci può stare, ci può stare benissimo, non c'è problema. Gli spottò, educati, ci stanno, sono le minacce e tutto il resto che non ci sta. Detto questo, ragazzi, è appunto una viola che rischia anche all'inizio, perché la prima occasione ce l'ha la Cremonese. Attenzione, la prima occasione ce l'ha la Cremonese, tra l'altro con un ottimo intervento di Terracciano su Sagiut, che teoricamente era angolo e la Cremonese non viene dato quell'angolo. Però, ragazzi, è una Fiorentina che da lì in poi parte fortissimo, crea tantissimo, finisce il primo tempo, mi sembra, con cinque tiri in porta, quattro, cinque, occasioni su occasioni. E appunto trova il gol con Cabral, ragazzi, Cabral che è on fire, è super on fire. Io sono ripetitivo, lo so, ma io ho sempre detto che questo, ragazzi, doveva giocare, non Jovic. Perché Jovic sembrava il colpo dell'estate, ma oggi si è visto, è entrato gli ultimi cinque minuti, Jovic non giocherà più da qui alla fine, giocherà veramente poco, quei cinque, dieci minuti, perché Cabral è inarrestabile, Cabral se tocca segna. Cioè, ragazzi, sei gol in conference, sei gol in campionato, è oggi il primo in Coppa Italia. Per questo giocatore che ha la mia stima. Poi c'è Sar che fa un miracolo su una canocchia, concedetemi il termine, di Meite che perde palle in aria di rigore. Iconè pesca Nico González in aria piccola, ma appunto il colpo di testa dell'Argentino viene spinto distinto da Sar, poi batti e ribatti di nuovo lì e rimane lo stesso González che non riesce a coordinarsi per la girata, gol divorato, ma Meite, ragazzi, ha combinato un pasticciaccio, Meite, che penso sia il peggiore in campo della Cremonese stasera. Non credo che ci sia qualche dubbio a riguardo, i ragazzi della Cremonese che mi seguono non mi sapranno dire se la pensano come me o no. Poi, ragazzi, un altro della Fiorentina che a me piace tantissimo perché crea, gioca, fa tantissima Iconè, ma non segna neanche a porta vuota, cazzo, se ci sono io in porta Iconè non riesce a segnare, Iconè ha abbastanza, o è sfiga o è proprio un problema realizzativo perché è un buon giocatore, fa cose buone, ma poi quando è lì davanti spreca, spreca malamente. Non lo so, non lo so, anche se ci sono io, cavolo, fa gol. Vabbè, comunque il centrocampo viola che è decisivo, che è determinante, che sovrasta quello della Cremonese, cioè il centrocampo viola è perfetto, è un ottimo metronomo dell'azione della Fiorentina e, ragazzi, la Fiorentina chiude il primo tempo con 13 tiri tra porta e fuori. Questo per farvi capire. Poi, sì, è una Fiorentina che davvero, se concretizzasse quanto crea, finirebbero le partite 10-9-8-0, un po' come il Bologna, no? Che fa tre tiri, fa tre gol, lo so, se era sempre lì su questi discorsi di Tiago Motta, io me la sono regata al dito, sta cosa di Tiago Motta, ma allora, ragazzi, Bologna ha tre tiri in porta, sportivamente fa tre gol. Cioè, è sempre così. Allora, se la Fiorentina facesse tutti i gol che fa il Bologna, ogni tiro in porta che fa il Bologna, avremo il secondo Napoli del campionato. E quindi è la Fiorentina a cui sta stretto l'1-0 alla fine del primo tempo. Il concetto è questo, perché ha avuto tante occasioni e meritava sicuramente qualcosa di più. Non me ne vogliono, ripeto, i cremonesi. Come vi dicevo, Icone non trova il gol e vale quello che vi ho detto prima, inizio praticamente ripresa. Anche lui ha un'occasione clamorosa, esce di poco e qui siamo di nuovo al solito discorso di Icone e poi entra Dessers per Sargiut e la Cremonese cambia piglio, cambia decisamente piglio con questo ingresso e un Dessers che comunque crea qualcosa di più, dà palle e appunto con un'imbucata di buon aiuto per Dessers. Dessers si crea lo spazio per il destro, centra lo specchio della porta, Terracciano le spinge e salva appunto la sua porta. Ma ragazzi, Dessers è comunque ancora un'occasione per la Cremonese pochi minuti dopo, il sessantesimo con buon aiuto che spreca malamente, tra l'altro su un campo aperto di Dessers che appunto gli dà una palla da solo al cospetto di Terracciano, ma appunto il numero 10 della Cremonese prima liscia il pallone e poi clamorosamente appunto poi c'entra il portiere ospite da due passi, un gol che davvero urla al miracolo. E qui sai, se vai sull'1-1 un po' può cambiare la partita, anche perché la Fiorentina nel secondo tempo mi è piaciuta meno fino al sessantacinquesimo e sessantasesimo perché la Cremonese un po' di reazione l'ha avuta appunto con l'ingresso di Dessers e quindi spreca di nuovo questa occasione alla Cremonese e poi la Cremonese da qui in poi praticamente sparisce perché c'è una doppia occasione per Cabral con Dodò, ragazzi anche Dodò è in un periodo, è tornato quello dei tempi dello Shakhtar, stasera meno bene, meno bene del solito, dell'ultima prestazione, ma Dodò in palla veramente, questo Dodò che sembrava a inizio il campionato un po' un oggetto di mistero come Jovic, adesso si vede che comunque è un ottimo innesto e l'avevo detto e me l'avevano detto anche i ragazzi della Fiorentina che non mi odiano. Detto questo, appunto, Dodò a pennello in area dalla destra, Cabral gira di testa sul secondo palo, Sar si allunga a toglierla dall'angolino, poi la palla torna a Cabral che calcia a botta sicura, Haivu sulla linea di porta ma la prende praticamente con la mano, col braccio e espulsione, rigore che l'infallibile Nico Gonzalez assegna, Nico Gonzalez su rigore li fa praticamente tutti, i gol, Viola sul 2-0 e la Cremo che ha avuto anche le occasioni nel secondo tempo per pareggiarla, ma è una cremonese che questa ammazzata qui tra capo e collo poi la fa sparire dal campo, diciamo così, e quindi è una Viola che vola verso la finale, è una Viola che già l'anno scorso c'era andata vicino, poi è successo quello che è successo, la Juve, Venuti, tutto quello che volete, ed è una Viola che lo merita ragazzi, bisogna essere sportivi, la Viola lo merita, io non sono qui, lo sapete benissimo, io sono qui a dire sempre quello che penso, coi pro e coi contro, perché appunto si litiga anche spesso con i bolognesi oggi, ma tutto deve rimanere nella civiltà, io dico il mio pensiero, poi posso benissimo sbagliare, non sono assolutamente un allenatore come in tanti si credono su Instagram con quello che mi hanno scritto oggi, ma non è quello il problema, ripeto, ognuno dice la sua e per carità, e io dico che la Fiorentina merita degli applausi perché è bella, bella da vedere, bella prestazione, bella in Europa, bella in campionato, bella in Coppa Italia e può veramente andare sia in Europa e vincere sia la Conference che la Coppa Italia, e non lo dico da gufo, poi per carità se vincesse l'Inter e la Juve piuttosto che la Fiorentina sarei più contento, siamo onesti fino alla fine, però obiettivamente è una Viola che merita quello che sta arrivando, soprattutto il mister italiano che ragazzi in pochi ne parlate, ma parlate tutti di sto Tiago Motta e siamo sempre a quel discorso lì e a quella ruota che gira, guardate l'italiano quello che sta facendo, poi parliamo di Tiago Motta, guardate i tiri in porta che fa la Fiorentina, il gioco che fa la Fiorentina, come gioca la Fiorentina, come gioca anche bene il Bologna, perché Bologna non gioca male, io non sono qua a dire che Bologna gioca male, assolutamente, dico solo che Bologna ha del... perché comunque tre tiri, tre gol, due tiri, due gol, un tiro, un gol, gli altri ne fanno dieci, non ne fanno uno, sono scarsi loro, ma è anche della fortuna, tu, ecco, e qui chiudo perché stiamo parlando della Fiorentina e non del Bologna. Ciao ragazzi, ci vediamo ai prossimi giorni, purtroppo pare che salterà il voce ai nostri rivali, sia io che Davide con cui dovevo fare il video non abbiamo trovato il giorno perché lavoriamo e altre alternative ci sono ma non mi rispondono e io da domani lavoro fino alle 10 di sera e quindi la vedo veramente dura, ma uscirà i pronostici, domani uscirà i pronostici, quindi state sintonizzati perché l'ultima volta di pronostici non pese 10 su 10, quindi vi sfido, vi voglio aspettare appunto nel video dei commenti dei pronostici. Viola, iscrivetevi al canale, attivate che al prima mette vi piace, condividete, commentate perché il Monta adesso parla bene che la Fiorentina è qui, dovete iscrivervi e smettere di litigare con Monta. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima e mi dispiace per la Cremonese, perché sapete che mi sta simpatica, mi dispiace per l'amico Davos, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!